Per la Rainbow Catania Basket è nuovamente il momento del dentro fuori. Archiviata la lunga serie di sfide stagionali contro il Cus Messina e la vittoria della Serie B siciliana, la compagine Bianco-Rosso-Blu si prepara alla prima gara dei play-off nazionali verso la Serie A2. Domani alle 16 Capitan Ferlito guiderà le ragazze arcobaleno sul parquet del Palamangano di Scafati per la prima partita dei quarti. Sarà un esame importante per tutto il gruppo Rainbow, temperato da una stagione ma soprattutto da una post-season vissuta sempre al limite con diversi successi maturati a fil di sirena. Contro le campane sarà spide inedita, Scafati e la seconda classificata del girone vinto dal Napoli, accoppiata ai quarti al Cus Messina. Le etne dovranno saper limitare i cali di tensione che talvolta ne hanno complicato le gare, oltre che prendere da subito confidenza col match evitando le partenze diesel, elemento che se da un lato ha sempre favorito lo spettacolo e l'incertezza, dall'altro ha spesso costretto le catanesi alla rincorsa. L'obiettivo dichiarato della Rainbow è la promozione, traguardo non esattamente preventivato ad inizio stagione e che potrà essere coltivato anche grazie all'ottimo lavoro di coach Deborah Bruni, capace di amalgamare al meglio. Un gruppo pienamente irrorato di giocatrici molto giovani come ad esempio Spampinato e Patanè, protagoniste nell'arco di tutta la stagione. La settimana di preparazione al match contro Scafati ha regalato alla coach catanese buone notizie soprattutto dal punto di vista dell'infermeria con il rientro di Valentina Parisi che potrà dare il suo apporto a gara 1. L'accesso alle semifinali si deciderà sulle due partite, col ritorno previsto per sabato 29 aprile si spera in un pala Catania finalmente pronto per ospitare senza problemi la squadra siciliana. Il passaggio del turno sarà sancito dal totale dei cosiente punti messo a referto dalle squadre nel corso dei due scontri.